buonasera allora innanzitutto spero che questo video venga bene perché io mi vedo completamente giallo e non sono cinese mi vedo completamente giallo perché oggi il telefono mi è cascato e sto vedendo mamma mia speriamo che regga fino a domani quando spero di riuscire a passare ad un nuovo telefono al massimo entro dopo domani ma il video la qualità del video non dovrebbe risentirne se non mi salta tutto lo schermo improvvisamente in questo momento mentre vi sto parlando volevo parlare del tema di cui si è dibattuto oggi a proposito della conferenza stampa di cherubini e dei tre giovani ossia sulle miretti e fagioli l'importanza dei giovani mi sembra che la juve stia dando importanza comunque ai giovani inserendoli aggregando la prima squadra e questo dato che riguarda un po i giovani dalle primavere di tutte le squadre solo il 2 per cento finisce in prima squadra una situazione che ovviamente deve cambiare e che attraverso lo juventus under 23 adesso juventus next gen potrà avere invece degli sviluppi diversi per quanto riguarda la società juve mi sembra che gli sviluppi comunque si comincino a vedere perché è vero che magari giocano poco tutti a parte miretti e dopo parliamo di miretti però sono aggregati stabilmente alla prima squadra sulle è sempre convocato fagioli è sempre convocato miretti addirittura gioca quindi io devo dire che almeno allo stato attuale l'idea della juve di investire sui giovani c'è c'è alcuni sono in prestito importanti bravi ranocchia e compagnia bella altri sono rimasti alla base ed è sicuramente una situazione che anche relativamente a quel discorso che facevamo sui giovani italiani non è italiano però fagioli e miretti lo sono sul serbatoio da creare anche per la nuova nazionale ecco credo che la juventus si stia muovendo bene poi voi mi direte però allegri non li fa giocare non li butta dentro eccetera allora apriamo il discorso miretti che è quello che sta accumulando più presenze meritatamente meritatamente lo sottolineo è un ragazzo emerso nella seconda parte della stagione passata che sostanzialmente non conoscevamo non conoscevamo quindi allegri l'ha pescato da lì l'ha messo in prima squadra e credo che sia incontestabile è stata una scelta di allegri non credo di nessun altro ok e da quando è entrato ha sempre accumulato più minuti fino adesso a dire addirittura ad essere diventato titolare nelle ultime partite abbiamo esaltato miretti come una delle vere promesse del calcio italiano anche in prospettiva nazionale ma perché abbiamo sempre potuto constatare da vicino la sua evoluzione non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista caratteriale cioè quando alla palla miretti erano un po che volevo dirle queste cose quando la palla miretti ti senti tranquillo perché sai che non la sbaglierà o sai che comunque la percentuale di errore nel suo caso è molto bassa ci sono quei giocatori che ti danno queste garanzie che ti danno quasi queste sicurezze quando tengono il pallone no mentre di altri a sensazione a pelle ti fidi poco di alcuni vedasi miretti a pelle ti fidi e però adesso veniamo al grande riscontro l'ultimo grande riscontro senza voler offendere nessuno né tantomeno miretti ci mancherebbe altro allora io vi dirò questo la mia sensazione personale ero in tribuna ho fatto il brodocampo è stato brodocampo nell'ultimo quarto d'ora perché dovevo fare poi l'intervista la super flash finale ero in tribuna quindi ho potuto vedere bene lo sviluppo del gioco i movimenti possesso palla e compagnia bella le iniziative personali l'avvio di iniziative di squadra e compagnia allora a alla collega che avevo di fianco ho detto ah già ma gioca anche miretti era il 30 32esimo del primo tempo non mi ero accorto che fosse in campo non vuole essere una critica e sto parlando di un giocatore bravissimo sto parlando di un giocatore che se continua così diventerà titolare in pianta stabile della juve e si prenderà anche la nazionale non ho dubbi ma guarda caso alla fine del primo tempo è stato sostituito perché non ci si è accorti che fosse in campo e allora cos'è questo quale la conclusione parziale ovviamente che stiamo parlando di una partita che possiamo attrarre da questa situazione che il ragazzo non è ancora pronto per affrontare determinati palcoscenici evidentemente che ha patito più di altri lo scotto di giocare contro questi mostri sacri in uno stadio importante come quello in una partita di champions league cosa vuol dire non è un difetto assolutamente non è un difetto semplicemente vuol dire che per certi tipi di partite sono stati un po' precorsi i tempi può essere che dopo questa esperienza alla prossima che gioca faccia il partitone per carità perché i giovani sono così ma questo è per farvi capire che quando si parla a volte di inserimento graduale un motivo ci sarà un motivo ci sarà questo è stato un inserimento graduale di miretti che è durato 45 minuti perché sostanzialmente non ha messo in campo la sua presenza ma non dico tecnicamente perché qualche pallone l'ha anche toccato sicuramente l'ha toccato ma non me ne ricordo io di giocate di miretti e non me ne ricordo ma anche caratterialmente ma è normale ragazzi è un ragazzino ancora ecco quando si pretende che giochino i giovani devono giocare sempre devono giocare sempre no non è così ci sono certi momenti in cui anche il giovane deve star lì a guardare imparare oppure deve sbattere il naso contro il treno deve prendere il treno in faccia e poi rielaborare questa situazione a 19 anni Messi avrebbe giocato quella partita sì a 19 anni Ronaldo avrebbe giocato quella partita lì sì a 19 anni Mbappé avrebbe giocato quella partita lì sì ma stiamo parlando di un altro mondo stiamo parlando di un altro mondo ecco perché capisco quando bisogna essere prudenti nel dare il giudizio sui giovani e graduali nel loro inserimento nel momento in cui si è alzata l'asticella della competizione non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista ambientale dal punto di vista caratteriale dal punto di vista della personalità da tirare fuori Miretti è andato in difficoltà ma ripeto non è un difetto è uno step di crescita lui ha imparato molto di più da quei 45 minuti contro il Paris Saint Germain che in tutte le altre partite precedenti in cui aveva giocato però il messaggio che ne esce è calma prudenza e gradualità di inserimento a meno che non ti ritrovi Messi o Cristiano Ronaldo o Mbappé e allora saltano tutti gli schemi dell'età questo lo significa che Miretti non deve più giocare queste partite significa che dovrà giocarle a step fino a quando arriverà a giocarle interamente e non sarà sostituito se non perché andrà in debito di ossigeno o perché avrà preso una botta ok gradualità poi è chiaro che da altre parti Miretti avrebbe già accumulato un sacco di presenze ma se andate a vedere dal momento in cui è entrato l'anno scorso ad adesso adesso la cifra non la so basta andarla a guardare ma ne ha accumulato di presenze quindi non diciamo che la Juve non fa giocare i giovani bravi li fa giocare ma è altrettanto chiaro che se ne metti dentro due o tre in partite che contano e che non puoi sbagliare perché se era non puoi sbagliare una partita e purtroppo le viene già sbagliate tante ok rischi rischi ecco il senso ecco perché quei 45 minuti di Miretti sono diventati la spiegazione del perché bisogna avere pazienza e Miretti ringrazierà perché tra qualche mese non lo tolgono più tra qualche mese non esce più più grazie a questi 45 minuti che a quello che ha giocato prima iscrivetevi al canale ci vediamo domani naturalmente ciao e spero che la qualità del video sia buona declino ogni responsabilità no responsabilità dandomi del pirla sono io perché ho fatto cadere il telefono quest'oggi ciao ragazzi ciao ciao